Era da poco sceso dal treno proveniente da Foligno, il 33enne marocchino arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Gualdo e Tadino, coordinati dal maresciallo Mattei. I militari nei giorni precedenti avevano già notato movimenti sospetti nel centro di Gualdo, movimenti che coinvolgevano il soggetto già noto alle forze dell'ordine. Ecco perché ieri sera una volta sceso dal treno e dopo un breve pedinamento e poco prima che salisse su un'autovettura dove c'era un altro magrebino del posto ad attenderlo, hanno deciso di entrare in azione, lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale dalla quale sono saltati fuori 600 grammi di hashish che gli inquirenti ritengono essere destinati al mercato del comprensorio per il mese di agosto. La sostanza sequestrata poteva rendere fino a 15.000 euro. Al vaglio dei militari il contenuto dei due telefoni cellulari sequestrati insieme al bilancino di precisione. Il 33enne marocchino, residente in Ocera Umbra ma domiciliato a Gualdo, è stato tradotto al carcere di Capanne su disposizione del sostituto procuratore Angela Avila. Operazione quella dei carabinieri del comando compagnia guidata interinalmente dal maresciallo Giustino che va ad aggiungersi a quella del giugno scorso che ha permesso di sequestrare 500 grammi di hashish e che va inquadrata, sottolineano i militari e gubbini, nel più vasto piano di controllo predisposto sul territorio, con particolare riguardo al periodo estivo nel quale viene messo in evidenza, statisticamente si verifica un aumento del fenomeno dello spaccio e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti.